Ciao ragazzi, ciao Andrea Unger, come ho cominciato a fare trading? Ne ho parlato in altre occasioni però spesso viene chiesto e quindi visto che molti vogliono cominciare è giusto che racconti un po' come sono partito io. Dunque si va ancora nel 97 quando lavoravo in una multinazionale e con alcuni colleghi si cominciava a parlare di investimenti, di azioni che sarebbero saliti insomma quei rumors che sicuramente molti di voi conoscono e affrontano tutti i giorni e così feci insomma comprai delle azioni sull'onda dei meglio informati che non sapevano niente e feci soldi, guadagnai e tutto contento, dico caspita funziona, funziona, anche il mio nick smodato ai tempi perché con un amico appunto è bello essere smodati e poi comprai azioni della società in cui lavoravo perché ci credevo, mi dicevano che era una buona società, lo vedevo che era buona ma non capivo poi i reali meccanismi della borsa, quando qualcuno dei consulenti disse il titolo non è buono, non ha flottante, io pensavo che idiota questo, non capisce niente e li persi un sacco di soldi, dopo iniziare i guadagni persi veramente tanti soldi, tant'è che fu scontato però la prima volta li applicai lo stop loss perché seppi in qualche maniera perché la discesa non sarebbe finita probabilmente, come andavano le cose, 3 e 7 si vedeva e decisi di uscire, tolsi il dente, tolsi il dolore e lì uno a quel punto dice adesso che faccio? Che faccio? Non mi piaceva avere perso, nessuno piace perdere e pensai di trovare un modo per capire. lessi su internet, che cominciava a popolarsi di informazioni sulla borsa, di questo campionato, il top trader di borsa, un giovane ingegnere, chi le capisce, che aveva fatto performance da mille passa per cento, diciamo, bravacco se questo riesce io no ma insomma, e decisi di studiare. E studia, 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 arrivai a capire come funzionavano i cover warrant, non come funzionavano in generale, anche, ma soprattutto che c'erano delle inefficienze palesi, dei ritardi nelle votazioni, quelli che i negazionisti ancora oggi dicono che non c'erano, c'erano, c'erano i ritardi, insomma uno poteva con un po' di capacità di calcolo comprare a botta sicura diciamo, perché sapeva che poco dopo, salvo scherzetti del market maker, il prezzo sarebbe cambiato a favore, ovviamente comprava quando immaginava che sarebbe cambiato a favore. E così dopo qualche mese di test del giochetto, chiamiamolo così, decisi di lasciare il mio lavoro. Il mio lavoro era un buon lavoro, ero in una multinazionale e avevo diverse persone sotto, una trattina di persone sotto, una posizione molto interessante peraltro, e feci questo passo. Ma perché l'ho fatto? L'ho fatto... Da un lato non mi piaceva l'ambiente, per quanto buona la posizione, l'ambiente multinazionale che non giudicavo meritocratico, troppo politicizzato nel senso buono, non di politica nel senso proprio politico ma nel senso di manovre fatte per compiacere qualcuno e non trovavo quella libertà che avrei voluto avere nelle mie operazioni. Già da tempo cercavo uno sbocco imprenditoriale per il quale probabilmente sono negato e quindi non ho mai... è il mio vero desiderio fare l'imprenditore, che non ho mai trovato. Nel trading vedevo questa via d'uscita, ne parlai con il mio mentore, lo chiamo così, all'epoca dove eri cofoti che mi disse chiaramente sei pazzo, non farlo, non lasciare il lavoro. Allora oggi sono qua a dirvi, avevo ragione io? No, ho avuto fortuna, ho avuto fortuna a trovarmi nelle condizioni giuste al momento giusto. Il momento giusto sarebbe stato qualche anno prima tra l'altro, però a parte questo io sono arrivato a mollare il lavoro nel 2001 e c'è stato ancora un buffer di qualche anno in cui si poteva sfruttare questa inefficienza dei cover world. Domenico aveva ragione, aveva ragione perché era un po' un salto buio, no? Oggi trovassi un Andrea Unger più giovane direi ma no sei pazzo, aspetta, avrei probabilmente cercato qualcosa di parallelo, di farlo in maniera diversa. Per il buonsenso che si acquisisce poi col passare del tempo, a quel tempo il buonsenso non c'era, non c'era e mi è andata bene, mi è andata bene che quello che facevo ha continuato a funzionare per un po' di tempo e perché ho avuto anche la fortuna di pensarci per tempo a cambiare. Cioè ci sono un po' i sopravvissuti, i Highlander dei cover world che ancora quando ormai non funzionava più quel modo di lavorare continuavano a cercare quelle nicchie. Ecco tutto questo io l'ho abbandonato per tempo perché mi sono trasformato in chiamiamolo così trader vero. A un certo punto ho fatto il cambiamento che mi ha permesso di dire ok da oggi in poi cerchiamo di capire veramente come funzionano le cose. Io ho avuto la possibilità essendo cresciuto all'interno dei mercati finanziari di acquisire nel tempo quelle nozioni che servivano per poter oggi essere ancora qui a fare trading. Parallelamente a quello che rimaneva dell'attività di cover warrants sono riuscito a studiare il trading automatico, per com'era automatico ai tempi. Oggi chi vuole fare il passo oggi non trova il cover warrants, forse ci sono altre inefficienze di cui non sono a conoscenza e mi dispiace. Però trova una mole di informazioni enormemente superiore a quella che trovai io al tempo, legato soprattutto anche alla crescita di internet che rispetto ai primi anni 2000 oggi chiaramente le proporzioni molto maggiori. Tutta questa informazione è buona da un lato, negativa dall'altra perché è mischiata in maggior parte a fuffa, a imbrogli, a ami per chi vuole abboccare all'esca della ricchezza facile. Però all'interno di tutto questo si trova anche del materiale buono che possa aiutare in qualche maniera a accelerare quel percorso, a creare una spinta maggiore per costruirsi il bagaglio necessario. Cosa c'è in tutto questo su cui riflettere? Primo la mia considerazione sulla scelta scriteriata che feci che poi si è rivelata buona, secondo me fortuna ripeto, secondo sul fatto che comunque all'interno di quel percorso io non mi sia fermato, ho studiato, ho studiato e mi sono reso conto che dovevo studiare, dovevo evolvere con quello che vedevo essere l'evoluzione corretta, per esempio sul mercato. Chiamiamo mercato anche i cover warrants che a quel tempo infatti erano un videogioco, però facevano parte di quello che per me era il mercato. Ecco la mia evoluzione è andata di pari passo per portarmi dove sono oggi. Se mi fossi fermato a dormire sugli allori o a crogiolarmi nei videogiochi dei cover warrants oggi probabilmente non sarei qui perché mi sei ritornato poi di fronte a un muro quando avrei dovuto affrontare i mercati in maniera più seria diciamo, più professionale. Per cui la necessità di studiare, di stare a passo con i tempi, di comprendere qual è la direzione da prendere e la direzione che sta prendendo le mie dettorie a noi è fondamentale per stare in piedi in questo lavoro. Spero che vi sia utile questo breve racconto della mia esperienza. Se avete qualche domanda poi specifica scrivete pure sotto nel video che sarò ben lieto di rispondere. Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger, alla prossima! Ti è piaciuto quello che hai visto? Se vuoi rimanere aggiornato iscriviti qui sotto e verrai avvisato prontamente quando c'è del nuovo materiale. Ciao! Ciao! Ciao!